Ragazzi breaking news è disponibile la beta di Call of Duty Modern Warfare per chi ha fatto il preorder digitale ragazzi basterà cercare Call of Duty Modern Warfare beta aperta e ve la ritroverete dentro allo store la sto lanciando immediatamente così vediamo praticamente il peso se risulta uguale a quella di ieri che era apparsa praticamente ad alcuni di voi vi ricordo da quest'ora quindi dalle 10 a 9 in poi dovrebbero iniziare ad arrivare le email con i codici da parte di Activision per scaricare praticamente la beta se non vi arrivano andate nel sito che vi metto nel primo commento di Call of Duty Profile quindi il profilo di Call of Duty lo dovreste trovare dentro al vostro profilo vi aspetto su Twitch che così parliamo in diretta appunto di questa bomba e vediamo se eventualmente succede qualcosa nella notte ci vediamo appunto fra poco in live su Twitch fra 5 minuti amante trattino basso cod subito a scaricare ragazzi subito fare a download daie daie